ciao a tutti ogni volta che mi capita di avere davanti delle immagini un po slavate un po poveri di contrasto e di colore è molto facile che mi venga da pensare subito al metodo lab metodo colore lab è un metodo che ha tanto di diverso rispetto al rgb al cmsk è un modello colore a se stante perché ha delle caratteristiche davvero che lo rendono davvero unico è importante per certi versi è in grado di effettuare delle delle modifiche delle operazioni che sarebbe molto difficile se non impossibile effettuare in rgb solo che si dice che a volte convertire in lab per poi tornare in rgb può far perdere dettagli colore informazioni insomma può far perdere qualità e qualcuno potrebbe dire ok ma quindi ci stai consigliando di convertire tutti i nostri documenti in lab e fare dei file psd portarci avanti con i livelli con creando dei file psd in lab no no perché comunque ci sono dei vantaggi che si possono tenere in lab ma ce ne sono anche molti altri in rgb quindi non sto facendo non sto mettendo sulla bilancia i due modelli dicendo che bisogna sceglierne uno piuttosto che un altro ma bisogna sapere dove mettere le mani e cosa utilizzare quando e perché piuttosto che convertire l'immagine in lab e quindi restare con un documento lab io preferisco fare effettuare quelli che definisco pit stop sono solito definirli così pit stop cioè mi spiego meglio cerco di lavorare in rgb perché quello è l'ambiente in cui lo spazio in cui lavorano anche le fotocamere le fotocamere producono questi file in rgb quindi penso sia utile rimanere in un documento psd nel in rgb in uno spazio rgb anche perché ricordo che photoshop mette a disposizione tutte le sue funzionalità in rgb ma non in lab perché se andiamo in lab sappiamo che ci sono molti livelli di regolazione ad esempio a cui non possiamo accedere così come anche molti filtri e operazioni quindi scelgo di rimanere in rgb avere un originale psd in rgb e poi effettuare questi questi pit stop che intendo per pit stop vi faccio vedere subito vado a duplicare il livello di sfondo in questo caso mettiamo che voglio fare delle voglia fare delle modifiche in lab quindi duplico il livello di sfondo vado a convertirlo col tasto destro in oggetto avanzato faccio doppio clic su questo sull'icona di questo livello e vado a fare il pit stop che dicevo cioè entro in un altro portale in un'altra dimensione in un altro documento a parte infatti come possiamo vedere in alto ne abbiamo adesso due aperti cascata tif e sfondo copia psb quindi sono entrato in un'altra dimensione parallela un un altro documento appunto che posso trattare come voglio è un documento indipendente che però segue il documento originale che voglio dire io adesso questo documento sfondo copia psb lo posso convertire in lab vado a modi immagine metodo colore lab adesso ho questo documento in lab e l'altro originale in rgb voglio far notare adesso senza entrare troppo nei dettagli tecnici di come strutturato lo spazio lab eccetera voglio giusto mostrare all'atto pratico quali possono essere delle differenze rilevanti su come si comportano i due metodi come voglio dimostrare come anche una stessa operazione se effettuata in rgb e in lab ha degli effetti completamente diversi ora siamo in rgb vado a fare un livello di regolazione tonalità saturazione dato che il nostro scopo principale era quello di ottenere più più volume nei colori più profondità nei colori quindi più variazione cromatica e anche un po più di contrasto per evitare diciamo questa di avere questa immagine così slavata così piatta quindi comincio dal colore vado in tonalità saturazione aumento la saturazione a più 75 per evitare di sfondare troppo i colori mi fermo a 75 ok adesso vado nell'altro documento che ho convertito in lab lo posso vedere qui anche in alto che è in lab e vado a fare la stessa identica operazione tonalità saturazione saturazione 75 ok vediamo la differenza questo in rgb questo in lab rgb lab due risultati completamente diversi quello che accade in rgb possiamo vederlo anche facendo prima dopo abbiamo dei verdi che aumentano sia di saturazione ma anche di chiarezza anche di luminosità diciamo sono più luminosi questi verdi rispetto a quelli che invece abbiamo otteniamo in lab se vado a fare in lab prima e dopo tonalità saturazione vediamo che la luminosità rimane intatta con la fotografia originale cambia solo il colore come in saturazione cioè aumenta la saturazione del colore aumenta diciamo la la croma aumenta la quantità di colore la percezione quindi della quantità di colore nell'immagine invece qui aumenta sia il colore che la luminosità di quei colori ma non mi limiterei soltanto a questo perché io percepisco anche un lieve giallo in più in questo in rgb invece vedo che quando aumenta il colore in lab i verdi diventano più verdi più profondi insomma o la percezione che aumenti anche un po la variazione cromatica anche nella differenza che c'è tra questo verde e la roccia oppure tra questi verdi qui a destra e questi un po più centrali riesco a riconoscere più gialli aranci insomma più colori invece in rgb diciamo che un po tutto verde giallo un po tutto un po più diciamo più simile ok allora qualcuno potrebbe dire ok vabbè ma basta che in rgb prendo questo livello tonalità saturazione vado a cambiare la fusione per chi conoscesse le fusioni i metodi di diffusione vado a cambiare la fusione in colore perché sappiamo che cambiando la fusione di un livello in questo caso il livello di regolazione in colore manteniamo attive soltanto le modifiche inerenti al colore lasciando invece intatte le informazioni relative alla luminosità originale in realtà però pur avendo cambiato la fusione in colore c'è sempre una differenza come possiamo vedere in rgb a pari valore di saturazione io quasi percepisco adesso meno meno saturazione meno colore rispetto invece a quella che percepisco qui in lab percepisco ancora più colore qui ne percepisco di meno ma anche percepisco anche ancora una luminosità maggiore quindi c'è ancora più luminosità rispetto invece al lab dove la luminosità rimane intatta assolutamente intatta quindi direi che insomma con questo questa operazione se fatta in lab secondo me è più da più ricchezza e più profondità all'immagine se dovessimo decidere che ci piace questa in lab questa modifica fatta appunto in in lab e vogliamo riportarla però nel documento originale psd ci basterà fare salva file salva control s o command s una volta che abbiamo salvato questo documento psb in lab che ormai convertito in lab possiamo anche chiuderlo e vediamo che quelle stesse identiche modifiche verranno riportate su questo oggetto avanzato che che avevamo creato in origine sfondo copia e ce l'abbiamo qui quindi noi adesso ci troviamo in rgb abbiamo chiuso il documento lab ci troviamo solo in rgb possiamo continuare a fare le nostre regolazioni curve eccetera in rgb sapendo che abbiamo questo sfondo copia questo oggetto avanzato che appare esattamente come appariva il documento in lab con le dovute modifiche fatte in lab questa è una cosa molto interessante perché insomma ci ci rende molto più aperti alle modifiche quindi ci consente più spazio di manovra butto questi due ok faccio doppio clic adesso posso rientrare in quel documento in qualsiasi istante perché basta fare di nuovo doppio clic su questo sullo sfondo copia e sono di nuovo adesso nel documento psb che avevamo convertito in lab butto questa tonalità saturazione e vediamo come si comportano invece le i metodi di fusione disattivo per un attimo questo livello i metodi di fusione se io faccio una curva in rgb e vado a metterla in moltiplica questo è il risultato lo stesso identico risultato che avremmo facendo un duplicato del livello e mettendolo in moltiplica perché sono i dati rgb che vengono presi e moltiplicati secondo delle operazioni particolari matematiche se vado a fare la stessa operazione qui in lab cambio la fusione in moltiplica e vedo che l'effetto non è uguale perché in lab oltre ad aver scurito l'immagine aumenta anche il colore infatti se vado a vedere l'aspetto dei canali a e b prima del moltiplica dopo il moltiplica il canale a e anche b sono più contrastati quando i canali a e b in bianco e nero di lab sono più contrastati vuol dire che abbiamo più colore sia da una parte che dall'altra sia nella componente negativa che quella positiva in a la componente negativa è verde quindi tutto ciò che è scuro in questo caso corrisponde al verde tutto ciò che è chiaro corrisponde al magenta invece in b ciò che scuro e blu ciò che positivo chiaro quindi il giallo e giallo quindi questo è ciò che accade ma preferisco essere più libero quindi invece che duplicare il livello faccio una curva cambio la fusione in moltiplica se voglio però ridurre questo scurimento dell'immagine basta che prendo il punto di nero e lo riporto su in alto così facendo la luminosità è rimasta intatta o soltanto aumentato la il colore la quantità di colore volendo potrei anche riportare un po più in basso per scurire per aumentare anche un po il contrasto all'immagine porto giù il punto di nero però in modo più controllato quindi non fino qui e magari vado anche a scurire le ombre faccio una piccola curva ad s in modo tale che con una sola curva in lab o aumentato la quantità di colore e anche la variazione cromatica un po e dato anche più profondità più contrasto all'immagine questo con una sola curva in lab per riportarla in nel documento originale rgb basterà salvare salva la chiudo questo non mi serve butto pure questa curva e vedo che ce l'ho adesso proprio nello sfondo copia originale quel quell'oggetto avanzato di prima o qui quello che mi serve ora magari voglio mantenere di questo livello soltanto il colore non voglio questo contrasto cambio la fusione in colore oppure voglio mantenere solo il contrasto la cambio luminosità oppure li posso duplicare e avere uno per il colore e uno per la luminosità e gestirli in maniera separata mette normale ok quindi questo è un po quello che avviene torno adesso un attimo nel documento lab volevo giusto aggiungere che in moltiplica in lab se siamo in lab in moltiplica o in scolora o in sovrapponi l'immagine ovviamente cambia ma cambia nel canale cioè nella luminosità quello che invece accade nel colore quindi nei canali vale a dire nei canali a e b è identico cioè abbiamo sempre un aumento di contrasto quindi un aumento di colore e di saturazione sia nel canale a che nel canale b nella stessa identica misura sia se vado in sovrapponi sia se vado in scolora sia se vado in moltiplica se voglio ottenere un ulteriore aumento del colore in questi in questi canali a e b quindi un aumento ulteriore del contrasto dovrei andare a usare i metodi che contrastano nello specifico luce vivida e luce lineare mi danno degli effetti ancora più massicci se voglio l'effetto massiccio di luce vivida per esempio sul colore ovviamente l'immagine si distrugge perché si contrasta in modo eccezionale cioè in modo pesantissimo resetto la curva mi basterà però se prima per annullare l'effetto del moltiplica nel canale l ho dovuto prendere i neri e portarli in alto adesso dato che questi sono i canali che contrastano i canali cioè le fusioni che contrastano dovrò semplicemente decontrastare cioè annullare il contrasto nella curva l del canale l quindi prendo il punto di nero e lo porto a 50 prendo il punto di bianco e lo porto a 50 così abbiamo una curva in luce vivida a cui non è cambiato assolutamente nulla a livello di luminosità perché rimasta identica prima è solo aumentato il colore infatti se vado a vedere il canale l di luminosità è rimasto identico a prima ma a e b cambiano drasticamente quindi o più colore volendo potrei tenermi questa curva e se voglio aumentare un po il contrasto porta un punto verso il basso e un punto verso l'alto nel canale l senza esagerare perché luce luce vivida è molto forte come effetto quindi ho ottenuto un effetto di aumento del contrasto profondità tridimensionalità all'immagine e anche colore e variazione cromatica poi è chiaro che potrei farne altri potrei fare un altro tonalità saturazione per aumentare ancora volendo la saturazione se si vuole consiglio sempre prima di fare queste operazioni di partire sempre ma questo a prescindere da un bilanciamento del bianco fatto come si deve quindi in questo caso potrei fare una curva sotto quindi subito dopo il livello immagine una curva in vai in cui vado secondo me magari c'è troppo verde qui quindi vado a definire un punto neutro e gli do un po di magenta ecco vedete come l'immagine già sembra un pochino più bilanciata ho ridotto un po quel verde quella dominante verde che occupava tutta l'immagine e adesso quindi posso dire di aver di avere questo risultato deve ottenuto questo risultato in lab posso fare di nuovo salva e chiudo questo documento psb tanto ce l'ho riportato qui al posto di questo sfondo copia che posso con doppio clic posso nominarlo lab e ora sono di nuovo in rgb in questo file tif che andrò a salvare magari in psd se voglio fare delle ulteriori modifiche e rimango in rgb posso fare tutto ciò che posso fare in rgb appunto mantenendo però questo oggetto avanzato con le modifiche avvenute in lab spero vi sia stato utile questo video e ci becchiamo al prossimo video ciao